Il Consiglio regionale ha approvato con 33 voti favorevoli la legge sulla modulistica unificata e standardizzata e sulla semplificazione dei procedimenti in materia di competenze regionali. La norma ha il principale obiettivo di ridurre gli oneri a carico degli utenti, agendo nei rapporti tra cittadini e imprese e tra cittadini e pubblica amministrazione, come spiegato nel corso dell'illustrazione dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani. La legge riguarda quattro aree, formazione professionale, controlli documentali, autorizzazioni paesaggistiche e autorizzazione unica per impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il Consiglio regionale ha approvato un atto estremamente importante che va nella direzione della semplificazione della vita dei cittadini e delle imprese. Grazie a questa legge sarà possibile sia per i cittadini che per le imprese presentare istanze, osservazioni, comunicazioni o segnalazioni alle pubbliche amministrazioni del territorio regionale attraverso una modulistica sempre uguale e uniforme in tutto il territorio della Regione Toscana. Non soltanto quindi ci sarà una modulistica uniforme elaborata a livello regionale nei rapporti tra cittadini e imprese e la Regione, ma ci sarà tra tutti i cittadini e le imprese i comuni del territorio toscano e tutti gli enti pubblici del territorio toscano. Si tratta di un atto importante, un atto che si pone nell'ottica della riduzione degli oneri a carico dei cittadini ma anche nella direzione della digitalizzazione, della semplificazione dei processi di formazione della volontà della pubblica amministrazione e che si allinea anche a una tendenza che è ormai quella della digitalizzazione così come postulata a livello comunitario. La Regione Toscana fa un atto importante che necessita chiaramente di tutta la necessaria attività di concertazione che dovrà essere portata avanti dalla Giunta regionale con le associazioni rappresentative degli enti a livello regionale, degli enti locali, affinché si possa arrivare alla realizzazione di questa modulistica. Non soltanto quindi il sito della Regione Toscana ma anche i siti dei singoli enti locali, comuni, province, avranno quindi la nuova modulistica alla quale potranno accedere i cittadini e le imprese. In questo modo si andrà a semplificare profondamente l'attività amministrativa ordinaria e la vita dei cittadini e di tutti coloro che operano nel tessuto produttivo della nostra Regione. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha consegnato il gonfalone d'argento, la più alta onorificenza dell'Assemblea Toscana, al professor Francesco Menichetti, infettivologo pisano, per il ruolo significativo che ha avuto durante la pandemia nel coadiuvare le istituzioni con pareri e indicazioni di particolare rilievo scientifico. In relazione al Covid, il professor Menichetti ha condotto studi sul plasma e anticorpi monoclonali. Adesso studia il long Covid e si dedica all'assistenza dei pazienti colpiti da questa patologia complessa e ancora poco conosciuta. Sono orgoglioso di poter conferire il gonfalone d'argento, il massimo riconoscimento del Consiglio regionale al professor Menichetti. Questo è un premio alle sue qualità scientifiche, alle sue qualità mediche, alla sua capacità di sapere essere vicino al paziente facendo ricerca di altissimo profilo. Uno di quei professionisti che quando vanno in pensione mancano e la sua mancanza si sente al sistema sanitario. Sono orgoglioso di farlo qui, oggi in Consiglio regionale, anche perché questo riconoscimento è anche un riconoscimento che noi vogliamo dare, oltre che a lui ai tanti professionisti della sanità in questo modo, che sono stati impegnati in prima linea durante i tremendi mesi del Covid. L'attività di cura, di assistenza, ma anche l'attività di ricerca, ne hanno fatto un punto di riferimento a livello toscano, a livello nazionale, a livello internazionale. Queste sono le motivazioni che ci portano a conferire questo riconoscimento al professor Menichetti. Direi innanzitutto un profondo orgoglio, perché questo è un premio che va a riconoscere un impegno ultraventennale che io ho speso presso l'ospedale di Pisa a favore della sanità regionale toscana. Assieme all'orgoglio e alla soddisfazione ha anche una riconoscenza doverosa, sentita, autentica nei confronti dell'istituzione, del Consiglio regionale, del suo presidente, il presidente Mazzeo, che ha voluto pensare a me. Penso anche per il complesso di una lunga attività, ma anche questi ultimi anni della pandemia di Covid ci hanno visto spesso insieme, hanno visto me insieme con le istituzioni interagire per cercare di ottenere risultati che poi si sono dimostrati tangibili e positivi. Quindi grande soddisfazione. La situazione è più favorevole per due buoni motivi. Uno, che abbiamo un paese largamente vaccinato. Siamo tra i più vaccinati d'Europa, del mondo, e questa è una nota di merito. Quindi abbiamo una popolazione largamente protetta. Il secondo motivo è invece legato a queste continue mutazioni virali che fortunatamente non hanno virato al peggio. Queste sottovarianti della Omicron sono ancora, tutto sommato, meno patogene di quello che è stato il virus di Wuhan originale, il virus Delta, che provocava quelle gravi polmoniti. A tale proposito, permettetemi di dire che mi pare forse azzardato liquidare quell'atteggiamento di prudenza e di attenzione, in particolare all'interno degli ospedali e nei confronti dei sanitari. Ecco, io avrei continuato a mantenere l'impegno vaccinale. Noi abbiamo, come dire, anche l'onere della testimonianza. I pazienti hanno diritto di essere assistiti da medici che credono nei vaccini, che fanno i vaccini e che li mettono al riparo da rischio. Presentato a Palazzo del Pegaso, io e il tampone, libro che in 300 pagine raccoglie elaborati e disegni degli alunni dell'Istituto Comprensivo Antonino Caponnetto di Bagno a Ripoli, nato da un'idea della misericordia di Antella, che ha coordinato lo screening insieme alla fratellanza popolare di Grassina e alla Croce Rossa italiana di Bagno a Ripoli, il volume è stato pubblicato grazie ad un contributo del Consiglio regionale. La campagna di prevenzione con test antigenici, condotta dall'amministrazione comunale dal gennaio 2021 al giugno 2022 in tutti gli istituti scolastici di Bagno a Ripoli, viene raccontata attraverso le testimonianze dei ragazzi. Lo screening a tappeto ha portato all'esecuzione di oltre 10.000 test. Fondazione CR Firenze e Menarini Diagnostics hanno donato i tamponi, che il lavoro degli infermieri e del personale delle associazioni di volontariato ha permesso materialmente di eseguire. E' bello essere qui e dopo quegli anni, purtroppo, terribili della pandemia, riuscire a raccontare attraverso il lavoro di tante bimbe e di tanti bimbi il loro punto di vista di quei mesi terribili. Un grazie alla misericordia di Antella, alla Croce Rossa di Bagno a Ripoli, che hanno voluto fortemente questa pubblicazione. Un grazie all'amministrazione comunale, alla fondazione, perché insieme, solo insieme, siamo riusciti a superare il terribile periodo della pandemia. Chi è che di più di tutti ha subito questo periodo? Soprattutto le bimbe e i bimbi, le ragazze e i ragazzi, mancavano momenti di socialità. E quindi riuscire a leggere quel tempo attraverso i loro occhi e lasciarlo anche a chi verrà dopo di noi, perché poi un libro ha questo significato, lasciarlo anche a chi viene dopo. È un valore molto importante, molto forte e noi come Consiglio regionale abbiamo voluto proprio che avvenisse qui la presentazione per mandare questo messaggio, il messaggio che dal Covid stiamo uscendo solo perché siamo una comunità coesa e ognuno ha preso le proprie responsabilità. L'idea era di documentare quell'esperienza di vita scolastica che facevano gli alunni del tampone fatto a scuola, quindi all'interno della scuola, perché forse avevamo tralasciato che per loro questa sarà un'esperienza indelebile, in qualche modo segnerà il ricordo della loro esperienza scolastica anche negli anni più futuri. Quindi venne fuori prima l'idea di una mostra e poi si è deciso successivamente di riportare tutta l'esperienza della mostra in questa pubblicazione, che è venuto fuori il racconto diretto, proprio la voce diretta degli alunni della scuola. Questa è un'idea straordinaria nata dalla Misericordia, dal giornalista Franco Mariani, a cui hanno adorito tutte le scuole del territorio dell'Istituto Caponnetto ed è un modo per raccontare quello che i ragazzi, i nostri bambini, i nostri studenti hanno vissuto durante il periodo della pandemia, partendo dall'esperienza del tampone ma andando anche molto altro. Credo raccolga anche la storia di un territorio che si è particolarmente impegnato nel momento della pandemia per dare anche la possibilità di andare a frequentare la scuola con regolarità per i nostri ragazzi e viverla fino in fondo, un'esperienza sicuramente drammatica, difficile come la pandemia, però renderla anche, dare quella consapevolezza ai nostri studenti e ai nostri ragazzi. Su questo sono state straordinarie le associazioni del nostro territorio, sono state straordinarie le scuole che hanno aderito al progetto e devo dire anche un grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio e a Menarini Diagnostic che hanno sostenuto questo progetto dei tamponi che hanno, in quella fase lì, che un po' ce li siamo dimenticati, reso possibile veramente andare a scuola in sicurezza. È un qualcosa che è nato proprio spontaneamente sul campo. Stando insieme ai ragazzi vedevamo la loro reazione, il loro approntarsi a questo tampone e allora è nato di dire ma questi fanno la storia, quindi perché non scriverla, perché non lasciarla ai posteri, no? E quindi è nato questo libro Io e il tampone, raccontato con dei disegni, raccontato con delle frasi, raccontato con dei pensierini e quindi è stata una cosa veramente bella. È stata un po' una scommessa anche perché parlando con i docenti sembrava quasi irrealizzabile. Lo facciamo per singoli, lo facciamo per classi e poi poi ognuno di noi ci ha messo del suo. Misericordia Antella con i palloncini, Croce Rossa lo dirà, ha avuto i clown. Loro hanno avuto questa ola con le caramelle e con una partecipazione proprio per alleggerire l'impatto del tampone e alleviare un po' la paura, no? Questa sorpresa che gli attendeva di questi volontari o sanitari mascherati. Insediato a Palazzo del Pegaso l'Osservatorio regionale sulla legalità, il presidente Don Andrea Bigalli, oltre al presidente dell'Assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo, ne fanno parte i tre consiglieri regionali Jacopo Melio del PD, Valentina Mercanti del PD e Luciana Bartolini della Lega e poi ancora Salvatore Calleri della Fondazione Antonino Caponnetto, il sindaco di Monterroni d'Albia Gabriele Berni, l'assessore di Prato Ilaria Santi, gli Uba Ghidotti di Anci Toscana e il sindaco di Alto Pascio Sara D'Ambrosio. Principale compito dell'Osservatorio sarà analizzare le cause principali dei fenomeni di infiltrazioni malavitose del lavoro irregolare, della corruzione, dell'usura, dell'estorsione e del riciclaggio presenti sul territorio regionale. L'Istituto dovrà anche elaborare linee guida per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata, da condividere con la Regione e gli enti locali e raccogliere informazioni utili ai fini della valutazione e della trasparenza negli appalti. Si insedia oggi la commissione di orientamento dell'Osservatorio regionale sulla legalità, quindi ricordo che siamo di fronte a un'istituzione, una emanazione diretta del Consiglio regionale, la quale però si dota di una commissione di orientamento. È importante creare questi ambiti in cui interagisce la società civile attraverso la dimensione associativa, degli enti amministrativi, delle realtà che di volta in volta saranno convocate, in modo che l'Osservatorio stesso si orienti con le varie attività di ricerca, esplorazione del territorio, comprensione dei meccanismi dell'infiltrazione, dimensione del contrasto in quanto tale, con tutte le realtà che in altri ambiti sociali lavorano su questa tematica. Quindi è quanto mai importante che questa commissione faccia un lavoro il più aperto possibile, e il più attento possibile a tutte le voci molteplici che arrivano sul territorio a riguardo. Sono davvero felice oggi che parta il lavoro dell'Osservatorio regionale per la legalità, l'ho voluto fortemente, lo abbiamo voluto fortemente, per dire che la Toscana è e resterà dalla parte giusta della storia, quella della legalità che combatterà con tutte le proprie forze, le infiltrazioni criminali che purtroppo anche nella nostra regione ci sono, in forma differenti rispetto ad altre regioni d'Italia. Un grazie a tutti coloro i quali faranno parte dell'Osservatorio, in particolare a Don Andrea Bigalli che lo presiederà. Saremo sentinelle anche noi della lotta alla legalità, faremo la nostra parte insieme a tutte quelle associazioni, a tutti coloro i quali con impegno e dedizione lo fanno ormai da tanto tempo. Presentato a Palazzo del Pegaso fuori dal Comune, un progetto creato dai giovani per i giovani, con l'obiettivo di dar vita ad esperienze di aggregazione. Previsti tre giorni di laboratori gratuiti per under 30, che si terranno a Siena dal 25 al 27 novembre, a Grosseto dal 2 al 4 dicembre e ad Arezzo dal 9 all'11 dicembre. Oltre 150 i ragazzi che hanno aderito e che avranno così l'occasione di sviluppare le proprie competenze nel campo cinematografico o di realizzare un progetto musicale. Finanziato dal Consiglio regionale, fuori dal Comune, è realizzato da Oxfam Italia e dalle associazioni giovanili Aretine, Ferrago e Arezzo che spacca. Al termine dei laboratori è previsto un evento finale di performance live con tutti i partecipanti, che si terrà il 10 dicembre ad Arezzo. È una di quelle scelte che abbiamo portato avanti con forza in questa legislatura. Le risorse a disposizione, non tantissime come Consiglio regionale, abbiamo avuto come risparmi dei costi della politica, l'abbiamo voluto dedicare ai giovani. Questo progetto si inserisce esattamente all'interno di questo percorso. Ringrazio il Vicepresidente Scaramelli per averlo voluto fortemente. Ringrazio Oxfam Italia per aver organizzato, partecipato, indirizzato un'iniziativa che si pone un obiettivo, che è quello poi di cambiare paradigma. Noi di solito pensiamo che con le politiche giovanili si possa risolvere il disagio sociale. Invece con questa iniziativa si prova a cambiare il paradigma, a porre i ragazzi al centro, a costruire insieme, insieme a loro, non solo il futuro ma anche il presente. È a noi il compito, avendo coinvolto tante amministrazioni comunali, di fare in modo che questo non sia un evento spot, ma che possa continuare nel corso degli anni e possa davvero contribuire a costruire un futuro migliore per i ragazzi e le ragazze che vivono nel nostro territorio. Un progetto per i giovani, ideato da giovani, frutto di un'intuizione, una legge che portavo con me da tanto in testa e poi il Consiglio regionale l'ha fatta proprio, l'Ufficio di Presidenza, dove i ragazzi diventano protagonisti di se stessi, delle proprie aree urbane, dove c'è una rigenerazione urbana non frutto di investimenti, di opere pubbliche, ma frutto dell'intuizione che i ragazzi dovranno mettere in campo, un'intuizione che poi si è trasformata in un'opportunità di relazione. L'idea nasce sotto il periodo di Covid, quando i ragazzi non avevano più relazioni tra di loro, doveva essere un'opportunità per consentire ai giovani di entrare in relazione, di riappropriarsi degli spazi urbani, di renderli vivi e di dimostrare che in ogni area urbana ci può essere uno spazio magari oggi abbandonato che però torna a vivere grazie all'intuizione, alla partecipazione all'estero, a quello che i ragazzi dimostreranno di fare. Lo andranno a fare in tre grandi città della Toscana, Siena, Rezzo e Grosseto, quindi una Toscana del Sud cosiddetta che torna protagonista con tantissimi giovani che partecipano, sono tantissimi ragazzi che hanno risposto e saranno tre fine settimana importanti dove i ragazzi dimostreranno di andare a fare delle produzioni, di essere protagonisti ma soprattutto a conoscersi e questo grazie a una grande collaborazione che è partita con Oxfam e varie associazioni, soprattutto Aretini, che poi hanno dimostrato di essere in grado di fare sistema con il territorio. Quindi un'intuizione unica nel suo genere che mi auguro possa poi essere replicata a livello nazionale e se questo progetto riuscirà a produrre quell'innovazione che io credo renderà i giovani finalmente protagonisti di un progetto pensato per i giovani e fatto da giovani stessi. Abbiamo strutturato tre full immersion della durata ciascuna di tre giorni sulle città di Arezzo, Siena e Grosseto dove proviamo a esportare un modello che negli anni si è sviluppato ad Arezzo dove sono i giovani effettivamente che progettano i progetti per i giovani. In questo modo il coinvolgimento è garantito, tanto che abbiamo coinvolto 150 giovani su tutte queste tre città. Le full immersion si svilupperanno in tre giorni di formazione e di azione creativa di un videoclip musicale che verrà girato durante la terza giornata quindi sarà un set cinematografico dove si possono sviluppare sia soft skill ma anche hard skill nell'ambito della comunicazione e della cinematografia. Ci saranno tutti i reparti della truppa che verranno formati su ragazzi che vanno da esperienza zero a esperienza professionale. Quindi si creerà anche un tessuto, lo lasceremo a livello locale questo tessuto professionalizzante e di comunità educante e speriamo di lanciare un seme che poi crescerà per far sviluppare tutta una serie di attività anche imprenditoriali a livello giovanile. Ad Arezzo c'è questa cosa bellissima che è l'associazionismo è un po' come una specie di avviamento all'imprenditorialità giovanile. Farrago, Arezzo che spacca ne sono due esempi. Siamo ragazzi che lavorano nell'ambito del cinema e della musica e si sono riuniti intorno alla forma dell'associazionismo. Ci teniamo anche proprio a questa espressione perché è il lavoro che ha tentato di fare negli ultimi cinque anni Oxfam parlando di protagonismo giovanile e pensando che il protagonismo giovanile è quando i ragazzi attivamente fanno qualcosa per se stessi e per gli altri ragazzi. Troppo spesso diamo atto a dinamiche verticali o comunque frontali, un po' paternalistiche nel senso che pensiamo sempre che dobbiamo essere noi adulti sono un'adulta a dover dare qualcosa ai ragazzi invece abbiamo capito con un lavoro durato anni che i progetti per i giovani devono essere gestiti da loro stessi e in questo caso si parla anche di rigenerazione urbana perché abbiamo compreso che questo poteva avvenire anche facendo in modo che avessero degli spazi per loro spazi che potessero essere gestiti da loro o comunque come vedrete poi in questo progetto visti per la prima volta da loro perché la truppa e il set diventano praticamente degli strumenti per creare aggregazione e un punto di vista nuovo su uno spazio da riqualificare. Fa molto piacere che il modello Arezzo tra virgolette viene esportato anche nelle altre province della Toscana del Sud perché per l'amministrazione comunale di Arezzo e per le associazioni del territorio è normale interagire e coprogettare siamo riduci da progetti di grosso successo come Oltre Camera che ha portato alla creazione di una serie tv a retina fatta da giovani per i giovani e anche da altri progetti partecipati e questo è bello perché va anche oltre il campanilismo che abbiamo in Toscana quindi Arezzo si è negrossetto insieme in un progetto innovativo e per questo ringrazio oltre alle associazioni Farragua e Oxfam anche il Consiglio regionale della Toscana che ha voluto portare avanti questo progetto e mi auguro che sia il primo di una lunga serie di eventi che vedono i giovani aretini e direi toscani protagonisti del nostro futuro. Io sono entrato nel gruppo della Farrago da circa un annetto ed è stata un'esperienza che in un certo senso mi ha un po' stravolto la vita perché io avevo appena lasciato la magistrale tra l'altro una magistrale in biologia quindi tutt'altro campo e ho detto ok, provo a ripartire ho trovato questa esperienza tramite amici, articoli e post ho detto proviamo e è stata formativa non soltanto dal punto di vista appunto di pratico, di art skill ma proprio perché mi ha reso protagonista e ha rimesso in moto in me un cambiamento che è stato fondamentale proseguendo appunto sia con la Farrago sia con questo progetto diventando appunto produttore e comunque sia formatore per altri ragazzi sperando che comunque la mia esperienza serva da esempio in un certo senso.